Wow no 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 Ciao amiciò sono Loridis e siamo su Just Cause 3 È una figata quindi vogliamo fare qualcosa Allora io non penso che seguirò la storia perché Cioè non penso che freghi anche sulla storia perché sono sempre la storia Ai just cause la storia non servo a niente Cioè l'esplosione a me non che sto dicendo Per oggi ho scoperto una cosa serissima Dai siamo quasi arrivati Dai siamo quasi arrivati ce l'abbiamo fatta atterriamo dolcemente piano 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 perfetto guarda che c'è là guarda che c'è là il martello di Thor il martello di Thor è il martellone di Thor il mio gir il mio gir il mio io non so se si può prendere sto martello l'ho scoperto per caso oh salve addio nel culetto ok bye bye che bello comunque c'è il martello di Thor ci riusciamo a spostarlo allora rampino prima prova no doppio rampino non si è mosso completamente no 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 questo è brutto no se faccio questo cosa succede questo gioco non va bene ma il trattaglio facciamo esperimenti per questo martello che altro si può fare ah voglio sapere che andate funzionano uno due tre quattro funzioneranno no forse no proprio no dai 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 che lo muovi dai che ce lo faccio dai che si è rotto il rampino ci lo dovremmo fare no vai tira 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 e staccati non si stucco cos'è questa cosa north overbrook l'entra è qua che posto è è fuori della mappa ma è un bug del gioco oppure è quello io questa cosa non la so usare non la so usare bene questa cosa dai tira 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 no 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 aiuto mi devo abituare a questo coso voglio quella barca servimi come tuo padrone no 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 dove cazzo sono andato porca miseria una barca una barca tu ah sono nemici no mori mori no me lo aspetta mori che succede bug visivo ok vabbè a posto c'è guerriglia me lo aspetta poco aspetta che non me lo aspettava la guerriglia e dai uffa il martello non funziona voglio gli altri miei amici allora dove la capretta eccovi no 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 l'elicottero l'elicottero non ti schianta non ti schianta non ti schianta non ti schianta benvenuto su justkaustra guarda che cazzo faccio non c'è porca aspetta aspetta che be' fattene via tu levati alle palle ora signorina salve è morta ok abbiamo finito una barca volevo solo una barca porca miseria signorina mi scusi signorina 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 si deve si deve togliere grazie aspetta aspetta ma che sto facendo ma che sto facendo le buone maniere ok bene funziona come fionda no no ma che è sparito ma no che è sparito devo provvedere nel video come si chiamava in acqua non c'è niente salve signori no aia non mi veste siete meno educati salvagente è pericoloso senza salvagente brava a questo punto si va lì oh c'è lo scooter vieni qua grazie mi sa che è ora di vedere un po' di esplosioni e qui c'è una loro stazione petrolifera che ora ci divertiamo uno due cosa succede rapporto succede questo bitch ah vero ho i razzi aspetta devo toglierli ora vadafacca nelle mode devo togliere questo no no granata granata che cosa che coglione ho rotto oh mio dio quel coglione ha rotto la base con la granata sei un idiota tu se attacco questo a questo e me lo tiro vediamo boom e se faccio questo oh mio dio in queste basi ci sono degli obiettivi ovvero si devono rompere tutte le tanniche di gas i posti di comando si devono rompere la parabola enorme che in questo caso hanno rotto e le centraline di controllo tipo quella quindi se faccio questo e questo e me la tiro boom ed è bello il rampino è una figata wow vediamo se riesco a sparare a qualcuno con questo qua no no che è successo no no sono morto no sono vivo sono vivo che è successo sono affrontato con questo porca miseria sali 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 granata che vuoi tu mori distruzione distruzione no oh cazzo ho esagerato facciamo dei buchetti guarda guarda che belli buchetti chi è che mi spa c'è un cecchino oh ah che coglio l'hai visto ha sparato al muro il coglione con il lanciarazzi allora prima andiamo a fare questo che figata oh mio dio dimmi cosa ci faccio qui questo cretino poff la divertiamo oh ma ma chi è che chi è lancia questi razzi no c'è qualcosa che mi sfugge c'è qualcosa che mi bombarda qua ah è quello ci divertiamo l'abbiamo preso è la nave è quella nave bastarda no vieni qua su aia no dove sto si è bugato tutto si è bug ok si vabbè ciao aspettami che sto arrivando calma si quindi se io sparo ora ciao guarda che davvero in acqua e sono carini vieni vieni tranquillo c'è spazio ha fatto la pressione a posto salve favolosa basta è ora di fare un bel volo wow aia ma perché bene piccio come primo gameplay bene piccio come primo gameplay di just no parla stop stop parla per favore dovrei dovrei fare lì devo fare devo fare l'altro porca oh ma tu che ma vaffan che vuoi ah e che male ducato bene piccio per questo gameplay just cosa è tutto come primo gameplay penso di aver fatto vedere un po' quello che potremmo fare all'interno di questa serie c'è ancora tanto da fare il gioco è all'inizio quindi spero di scoprire tantissime cose fighe perché ci sarà pieno di easter egg e altre stronz del genere detto questo spero che il video ti sia piaciuto ricordati mi sapere cosa ne pensi o commento qui sotto lasciarmi un bel mi piace per farmi sentire apprezzato ma non solo come ciao ciao certo certo ciao ciao Grazie.